Oggi prepariamo insieme questo delizioso tortino di zucchine e patate. Iniziamo subito grattugiando le zucchine e le patate. Dopodiché aggiungiamo il sale, il parmigiano, la farina e le uova. Mescoliamo bene il tutto. Versiamo metà del composto in una teglia ben oliata e che spazza di pangrattato. Farciamo con salame e formaggio. Copriamo il tutto con il composto rimasto, livelliamo bene, cospargiamo con il pangrattato e olio. Cuociamo in forno a 190 gradi per circa 40 minuti. Ed eccolo qui! Croccante fuori e filantissimo all'interno. È gustosissimo!